In questo momento siamo a 1.423 metri, avanti a noi il confine con la Slovenia. Una piccola panoramica. Ecco la cima e quella piccola cuspide corrisponde ai tre confini. I tre confini Italia, Slovenia, Austria. Ecco il posto di ristoro. Signora Roberta e la Drylander Fit, 1.423 metri. Qua iniziano le piste da sci, a dopo.